Sì, ecco, le peculiarità del nostro paese essenzialmente sono l'enogastronomia, per esempio i bogoni, le lumache, sono famose diciamo un po' in tutto il Veneto e abbiamo l'antica fiera dei bogoni all'ultima domenica di novembre che è frequentata anche da 2-3 mila persone quando è svolta. Abbiamo un'altra peculiarità che sono le erbe di Sprea con il prete da Sprea che era Don Zocca che curava grazie a queste erbe negli anni 40-50. Tutta la popolazione è citato bene o male in tutta la provincia in quel tempo e ancora adesso abbiamo l'erbecedario che coltiva nel giardino botanico le erbe e che produce e che rivende diciamo con mezzi sia con il negozio presente sulla frazione di Sprea e sia online. Quindi diciamo il discorso rete è importante anche per noi. E infine abbiamo l'ecomuseo della Lessinia che si trova presso la casa di Pepper di Sant'Andrea che sta cercando da qualche anno di canalizzare un po' tutto il turismo della Lessinia, quindi non solo di Badia Calavena per cercare di creare dei pacchetti turistici che possono aiutare appunto non solamente il nostro paese ma tutti i comuni con cui confiniamo. Su cosa si sta concentrando l'amministrazione locale a livello di progetti, di novità per migliorare e rendere più efficiente il comune? Il comune di Badia è sempre stato attento alle fonti rinnovabili. Abbiamo il primo impianto macroeolico presente in Veneto e le scuole e il comune e la biblioteca funzionano con impianto biomassa. Ora noi cercheremo di procedere con questa politica energetica sostituendo i corpi illuminanti sia nelle strutture pubbliche che nei pianti di illuminazione pubblica portandoli a LED. Ovviamente il nostro obiettivo oltre che a risparmio energetico è anche avere un risparmio economico. Dai calcoli che abbiamo, dai progetti insomma che ci sono stati presentati ci può essere un risparmio fino al 50%. Vedendo che il nostro costo è di circa 80.000 euro all'anno di energia elettrica puntiamo a dimezzare questo costo. Ovviamente la vera sfida è farlo in house, ossia che sia il comune che lo faccia perché nel momento in cui si propongono i project finanziari sono le aziende che poi si trattengono il guadagno economico e quindi il comune sì ha l'opera al cambiamento dei lampioni però di fatto di risparmio economico non ha nulla. Quindi noi stiamo provando a fare questa strada sulla politica energetica però dando un occhio sempre al bilancio sostanzialmente. Quali sono gli ostacoli principali che l'amministrazione, lei sindaco e i suoi collaboratori si trovano ad affrontare quotidianamente? È il bilancio ovviamente, nel senso è la nostra spesa corrente. Sostanzialmente parlando con il mio ragioniere Fatalità ieri abbiamo scoperto che il fondo di solidarietà che è il fondo dove lo Stato centrale ci trasferisce i fondi ci ha tagliato altri 4.500 euro circa. Questi tagli vanno avanti più o meno dal 2010 quindi ogni anno noi perdiamo un tot 1.000 euro che per carità sono 4-5.000 euro all'anno però intanto sono già diventati i 25.000 euro e quindi noi ci troviamo ad un taglio delle risorse ad avere ovviamente aliquote IMU e tasi tolta IMU bloccate. Noi abbiamo sempre avuto delle aliquote tra virgolette basse per agevolare sia che ha le seconde case sia che ha le imprese e quindi ci troviamo a avere difficoltà nell'avere introiti. Quindi la vera sfida nostra è appunto la spesa. Ovviamente il governo centrale sta cercando di portare i comuni a fondersi, ad unirsi e nello stesso tempo anche a dire cercate di razionalizzare la spesa ed è quello su cui noi stiamo lavorando la razionalizzazione della spesa. Fare rete potrebbe portare solamente vantaggi e possibilità in più? Sì, la rete tra comuni probabilmente nei prossimi anni sarà fondamentale. Da quello che vedo il disegno dello Stato centrale è appunto far accorpare spontaneamente i piccoli comuni come il nostro. Soprattutto nel nostro caso che è la Val di Lasi abbiamo 3-4 comuni che potrebbe essere Selva di Pronio e Badia, Tregnago, possiamo mettere anche i Lasi, che nel raggio di 15 chilometri hanno una strada dritta che li collega. Dobbiamo iniziare a ragionare in quest'ottica. È ovvio che io capisco i piccoli comuni come il mio, come può essere Selva, che è ancora più su di me, che nel momento in cui c'è una fusione, per esempio, può perdere quel po' di autonomia e quel po' di potere locale che può far trasformare quelle che ora sono frazioni, vedi Campo Fontana, vedi la mia Sprea o Santissima Trinità, in contrada e quindi riesco a capire la difficoltà non solo dell'amministrazione ma anche della popolazione di accettare questo declassamento. Però ci dobbiamo provare e dobbiamo insomma metterci il cuore in pace che prima o dopo succederà.